ed eccoci di nuovo qui ragazzi eccoci ritornati di nuovo su fortnite oggi vi voglio mostrare il negozio perché è uscita una skin nella formula 1 che è luis hamilton trascende aspettative super limiti come pilota luis hamilton entra nella serie icone diamo subito un'occhiata allora prima vediamo tutto il negozio che è uscito vabbè le solite skin ok alle lela kira comunque il negozio come cambia adesso il negozio mi piace che fa vedere le skin a destra ci sta un botto questa cosa mi piace veramente tanto kira con i suoi stili poi macello ok ora hanno messo il peggy 12 il test screen non si possono usare in creativa se non hai 12 anni peggy 3 peggy 18 hanno messo il piccone fortuna saltello laterale basta 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 che è copyright poi cosa hanno messo pesce palestra ok stile questi sono i suoi tre stili drosera con il suo zainetto che sono le petali benefici figo beats gocito che è pure copyright e quindi non me la fa sentire ma comunque no saltello laterale non è perché no a questo non è copyright penso sto capendo niente questo è copyright e non me la fa sentire questa nemmeno vabbè dai autografo prego è un emote sincronizzato di fare con qualcun altro mi sento elegante da quanto non vedo questo balletto ed eccoci qui su luis hamilton il bundle costa 2400 2400 ok e a questi presti a tre stili ok ci possono togliere gli occhiali perfetto ci sta come schienone brutto questo dovrebbe essere il suo cane con la lingua di fuori non è reattiva questa skin ok e poi uscita questa skin questa mi piace un botto questa penso che penso proprio di prenderla questa luis hamilton giorno del lancio e poi blu azotato ok figa così ci sta un botto bella 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 sembra tipo una skin di destini di un personaggio di destini sembra stranissimo però ci sta ci può togliere il casco e se ci può togliere anche la riattività ok quindi diventerebbe così e poi così senza senza essere riattivo e attività così ci sta un botto molto molto meglio poi questa è la sua spada stile pole position e poi blu azotato bella bella come spada ci sta un botto e questo è il suo piccone vediamo mi piace il sound bello bello il sound vediamo l'altro stile sempre blu azotato ok oh ci sta ora andiamo a provare questa skin la voglio prendere ora andiamo a provare tanto c'ho un decimila e passa più bbac quindi monopattino monopattinante a gira di continuo ok poi questo è il suo deltaclano self con effetto scia ok che cambia il colore perfetto e questa è la sua mimetica ma niente male niente di che non mi piace tanto questa skin questa la prendo però poi vabbè 10 livelli passo g anche se non conviene e poi c'è la gru ok ah poi c'è tutto il pacchetto se uno ok andiamo a prendere questa skin dai andiamola a provare acquisto oggetti equipaggio equipaggio e equipaggio pure questa la reattività lo penso che l'abbia messo si ok andiamo a provarla in una partita in creativa e vediamo ed eccoci qui ragazzi siamo in partita che è una lobby in creativa quindi non sono tutti i botti questi che vediamo ma ho messo la partita ho fatto la partita per provare la skin anche se il deltaclano non ci sta comunque è quello della stagione 1 quindi lasciamo stare e per provare il sound del piccone vediamo bello mi piace mi piace il sound non è niente di che però bello è silenzioso è bloccato vediamo con le armi come si vede la skin con con le armi vediamo ammazziamo a qualcuno dai vediamo come si sente mi piace veramente un botto che cosa ho aperto ma che cosa ho aperto sbagliato comunque come skin ci sta anche con anche il piccone in questa maniera vediamo picconiamo qualcosa no figo figo vediamo comunque non è manco ingombrante sia la spada che tutta la skin quindi ci sta comunque ragazzi io vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale youtube e tiktok sempre salagar88 questa è la skin di proviamolo con un balletto questa è la skin di Lewis Hamilton volevo mostrarvela così vedete voi se la volete shoppare oppure no e ci becchiamo un prossimo video